buongiorno dalla davena e l'allegria oggi prepareremo delle zucchine ripiene di riso e gamberi e allora intanto io mi sono già portata avanti sgusciando il gambero e con le teste vieni verso qua fai vedere con le teste il carapace mi sto facendo un fumetto di pesce quindi ho messo acqua il carapace e le teste pomodorini cipolla sedano e carota sale e vino bianco queste ore li faccio bollire poi li schiaccio tutti per estrarre il suo e lo filtro nell'altra l'altra ventola ho messo a bollire dell'acqua salata dove per prima cosa andrò a scontare le zucchine a quale vede ho tolto la capocchia e ora sto svuotando le faccio vedere prima facciamo un taglio ben preciso con il coltello dopodiché penso che a casa tutti abbiamo uno scavino li andiamo a svuotare il fumetto ha cotto e cotto che ho frullato vado a frullato vado a frullare l'acqua salata che ho frullato vado a frullare il filtrare il fumetto questo mi sa mi servirà per preparare il risotto vedete io sto schiacciando bene in modo che mi esca tutto il sughetto che contengono le teste la polpa questo fumetto anche se è molto non vi dovete preoccupare perché utilizzerete quello necessario per fare il risotto l'altro lo fate raffreddate lo mettete in dei barattoli una bottiglia e poi lo conservate nel freezer così quando dovete fare un piatto un altro risotto a base di pesce ce l'avete già però qua bolle le zucchine ora andrò a scottare un pochino e allora dopo aver sbollentato le zucchine proprio massimo 3 4 minuti riusciamo e li mettiamo su un canovaccio asciutto a scolare ecco fatto intanto io la polpa l'avevo fatta a pezzettini ancora più piccoli aggiungo un poco di quest'acqua dove ho scottato che era salata già dove ho scottato le zucchine e li faccio un pochino ammorbidire perché poi li andrò a frullare che mi servirà sempre per la preparazione del riso come crema io il gambero lo sgusciato e mentre lo sgusciavo ho tolto pure il filo il budellino ecco qua ho lasciato qualcuno proprio per farvi vedere come fare perché questo se lo lasciate questo filino poi in pratica sono l'interiore e quindi sono troppo amare la zucchina è cotta vado sempre a frullare ho tolto l'acqua in eccesso e vado a frullare con il frullatore e messi alla preparazione del risotto sto mettendo a tostare il riso senza nulla quindi qua ho pronto il fumetto qua la zucchina frullata e gamberi il riso è tostato e iniziamo ecco vedete comincia a sfregolare il fumetto aggiungiamo la polpa delle zucchine e quindi ora iniziamo la preparazione del risotto io in questa preparazione del riso aggiungo anche una bustina di zafferano il riso il riso è già cotto diciamo cotto di solito il riso ha una cottura di 15 minuti io l'ho fatto cuocere 11 mi sono lasciata un pochino la cottura indietro perché poi finirò la preparazione in forno ho spento vado a mantecare con burro e parmigiano aggiungo i gamberetti gamberetti li metto all'ultimo perché hanno proprio bisogno del calore soltanto del calore e poi un poco cuoceranno in forno è chiaro vi ricordo che la mantecatura deve avvenire fuori dal fuoco infatti vedete che ho spento ora prendiamo una teglia mettiamo sul fondo un goccio di olio e passiamo al riempimento delle zucchine ok 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 le ho riempite tutte ho messo a decorare dei gamberetti un pizzico ancora di parmigiano ognuno mettiamo il suo appello così il riso non si brucia ancora un goccino d'olio sulle zucchine e ora mettiamo in forno già caldo a 180 gradi per 20 minuti i 20 minuti sono trascorsi ed ecco a voi le zucchine ripiene di risotto ai gamberetti buona giornata e buon appetito ciao